Torniamo a parlare di incendi boschivi e lo facciamo con il colonnello Andrea Turco, comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio. Buonasera colonnello. Partiamo ovviamente dall'attualità, dall'incendio che è divampato a Forcola e poi è coinvolto anche la Val Tartano, in questo caso possiamo dire che l'emergenza è rientrata? Direi di sì, anche il direttore delle operazioni di spegnimento della comunità montana di Morbegno ha confermato che le fiamme sono spente, è stata praticamente conclusa anche la bonifica dell'area, resta qualche piccolo focolaio all'interno dell'area che ogni tanto riprende, però è nell'area già bruciata, quindi non è nulla di allarmante, nulla di preoccupante, è un'evoluzione normale dell'incendio che si spera alla prima pioggia finisca completamente. Mentre i vigili del fuoco dal 1 gennaio ormai si occupano del coordinamento delle attività, delle operazioni di spegnimento, il corpo forestale che dal 1 gennaio è entrato a far parte dell'arma dei carabinieri, si occupa invece delle indagini. Per quanto riguarda questo grosso incendio che ha distrutto 120 ettari di bosco, possiamo dire qualcosa in più? È doloso? Allora, noi su tutti gli incendi interveniamo con un protocollo operativo ben determinato che parte dall'individuazione del punto di innesco, la repertazione di eventuali tracce e poi la ricostruzione dell'evoluzione dell'incendio. Da lì poi si approfondisce l'indagine per identificare se è un incendio di origine dolosa o di origine colposa. Attualmente le indagini sono in corso, per cui non posso riferire nulla perché è tutelato dal segreto istruttorio. Però ecco, ci muoviamo per adesso a 360 gradi, dal naturale fino al doloso. Si propende più per il doloso o l'accidentale perché voi avete individuato il punto di innesco? Il punto di innesco è stato individuato perché il primo punto che deve essere individuato è poi la ricostruzione e lo sviluppo delle indagini. È chiaro che non posso dirle quali sono state le conseguenze dell'individuazione del punto di innesco. Parliamo invece delle condizioni del territorio. In questo periodo, e anche poi quello che ha favorito l'estensione di questo incendio, il bosco è molto secco e soprattutto sono stati giorni di forte vento. Purtroppo i nostri boschi è da tanto tempo che sono lasciati a se stessi. Si sviluppa un sottobosco, un accumulo di fogliame particolare. Con la combinazione della siccità e del forte vento, qualunque piccola scintilla, qualunque piccola fiammella può dare origine a degli incendi di queste dimensioni che diventano particolarmente difficili nella gestione dello spegnimento e soprattutto in presenza di un vento come c'è stato in questi giorni. Dall'inizio dell'anno sono già numerosi purtroppo gli incendi divampati sul nostro territorio. Noi ne abbiamo registrati cinque, diciamo di una certa dimensione, di cui tre in Val Chiavenna e due intorno a Piateda, di cui tre di origine dolosa e due di origine colposa. Poi abbiamo avuto una fase di stasi che è combaciata col periodo leggermente più umido e adesso abbiamo avuto questa ripresa che ovviamente abbiamo tutta la parte montuosa che è secca, non piovendo e molto suscettibile appunto, come le dicevo, a qualunque tipo di innesco. E mentre proseguono le indagini, proprio per fare piena luce sulle cause esatte di questo ultimo incendio, la vostra attività prevede anche consigli per la prevenzione. Com'è giusto comportarsi per evitare che anche accidentalmente i nostri boschi prendano fuoco? Allora, premesso che la miglior prevenzione è quella della manutenzione del bosco. Evita la creazione, appunto come dicevo, di un sottobosco fitto e intricato, evita l'accumulo di fogliame o di aghi che possono appunto propagare l'incendio. Dal punto di vista della prevenzione, diciamo che, se mi consente la similitudine, è come i furti in casa. Sai che possono accadere, però non sai mai dove possono accadere. Il territorio è quanto mai vasto, quindi tenerlo sotto preventivo controllo risulta estremamente difficile. Però svolgiamo un'azione di prevenzione. Anche questa azione di prevenzione è coordinata con i volontari delle comunità montane della provincia di Sondrio, che sono estremamente operativi da questo punto di vista. E poi la prevenzione è quella che ognuno di noi dovrebbe avere. Evitare appunto di fumare in bosco, o quantomeno di abbandonare sigarette accese, senza preventivamente averle spente e aver avuto cura di vedere che sia spenta anche proprio la cicca. Così come evitare qualunque lavorazione, soprattutto in questo periodo, con macchinari che possono creare scintille, che vanno anche dalle motoseghe, dei cespugliatori, faccio per dire compressori in generale. E poi oltretutto quelli che vogliono fare attività di ripulitura, e quindi che vanno ad abbruciare le ramaglie. Quella è la parte più difficile ed è sconsigliabile, soprattutto in condizioni di ventosità elevata come questi giorni. Premesso che in bosco non è mai possibile bruciare, perché è vietato bruciare in bosco, chi ha intenzione di fare un abbruciamento all'esterno della parte boschiva, oltre i 100 metri dal limite del bosco, deve ovviamente avere la cura di avere disponibile dell'acqua, di isolare la zona creando una zona priva di vegetazione intorno al cumulo che deve bruciare, e sempre rispettando la legge regionale che stabilisce i 3 metri steri a ettaro al giorno di possibilità di abbruciatura. Colonnello Turco, cosa rischia chi appicca un incendio? Chi appicca un incendio dolosamente incorre nel Codice Penale, l'articolo 423 bis, che prevede appunto la reclusione, arresto e reclusione dell'incendiario in quel caso, qualora sia preso ovviamente in flagranza di reato. Sempre del penale, però a livello contravvenzionale, chi appicca un incendio colposamente non dolosamente.